Le migliori produzioni della stagione accanto alla riscoperta dei grandi classici. Torna a Gallipoli il cinema sotto le stelle grazie all'iniziativa della Cantina Coppola, da sempre vicina al mondo delle arti e dell'editoria. La terrazza del cinema è un'arena a cielo aperto, immersa nel verde, circondata dai vigneti, e può ospitare fino a 90 posti a sedere con l'intento di contribuire a riportare quanta più gente possibile nei cinema. Io sono convinto che non è vero che la gente non voglia andare al cinema, deve essere semplicemente sollecitata. Allora, sulla terrazza qui della Cantina abbiamo creato un programma di circa nove film, sei più tre classici, perché crediamo che anche i classici possano essere goduti sul grande schermo. Tra l'altro, due di questi classici saranno in versione originale, sono Psycho di Hitchcock e Cantando sotto la pioggia. Nove film ad autore, tra uscite di stagione e grandi classici da riscoprire, pellicole premiatissime, candidati e premi Oscar, capolavori della cinematografia, la scelta dei film per nulla casuale, abbraccia temi sociali di grande attualità. Speriamo che questa iniziativa possa raccogliere anche turisti da tutto il Salento. Come spesso accade, chi è in vacanza sulla parte adriatica che magari viene qui da noi o per fare il bagno o per andare al ristorante, speriamo anche che possa venire qui ed andare al cinema. Grazie a tutti.